E' stata Sonia Mori a trionfare a Voglia di Karaoke, la kermesse canora itinerante di Arezzo TV che vi ha tenuto compagnia per molte settimane e che ha visto sfidarsi a colpi di canzone numerosi concorrenti provenienti anche da fuori provincia. Nella finalissima, La Casa dell'Energia, a trionfare è stata proprio lei, Sonia, una delle famiglie. Un grande successo di pubblico con la simpatia di Beppe, Marco e Sabrina che hanno aglietato le varie fasi della gara e anche per Arezzo TV che ha costruito un format semplice, genuino, diverso dal solito ma sempre vicino alla gente. Un'occasione anche per fare del bene, sono stati raccolti oltre 500 euro da destinare a Tecla Ollus i cui progetti sono rivolti per aiutare le popolazioni africane, in particolare i bambini. In questi giorni la dottoressa Gabriella Rossi si trova in Tanzania per ridare speranza a queste giovani vite.